Un'incoraggiante ripresa del settore commerciale e una flessione nei container sono i due aspetti più importanti che emergono dall'analisi dei dati relativi ai traffici dei primi 9 mesi del 2021 del porto. Sospensione per 10 giorni della licenza è quanto ha deciso la questura di Roma per un minimarket che vendeva alcolici minorenni e fuori l'orario consentito. Ancora tori pericolosamente vicini alle abitazioni nella zona delle Molacce al confine nord di via Terme di Traiano, timori da parte dei cittadini che chiedono un intervento delle autorità competenti. Si apre il seipario del Teatro Traiano, inaugurato il cartellone del Teatro Comunale, sarà Silvio Orlando in la via davanti a 6 di Roman Gary, appuntamenti sabato alle 21 e domenica alle 17. Vittoria per K.O. Tecnico per Michael Magnesi negli studi di Paramondi New York e il lupo solitario ha mandato al tappeto il filippino Lagos e ora si punta a riunificare le cinture mondiali. Buonasera dal TRC Giornale da Raffaella Angeletti. Sono stati pubblicati ieri sul sito istituzionale dell'autorità portuale i dati relativi ai traffici dei primi nove mesi del 2021. Dalla stretta analisi dei numeri emerge un'incoraggiante ripresa del settore commerciale, spinta soprattutto dalla crescita della movimentazione del carbone destinato alla centrale Enel, mentre si registra una preoccupante flessione nei container anche rispetto all'anno nero del 2020. Ma sentiamo. Bene il traffico commerciale tradizionale, soprattutto grazie all'impennata del carbone Enel che però non dipende dalle strategie dell'autority, quanto dal mercato dell'energia che da qualche tempo lo spinge in alto grazie alla convenienza rispetto al gas. Benino, quello croceristico e rorro, male, anzi malissimo, il settore dei container. Si possono sintetizzare così i dati riguardanti i traffici dei primi nove mesi del 2021 apparsi ieri sul sito istituzionale di Molo Vespucci. Rispetto al quasi nulla del 2020, annus horribilis per uno scalo marittimo devastato dalla pandemia, la situazione è in netto miglioramento, ma non si arriva ai livelli del 2019, che peraltro la cività vecchia era stato un anno negativo e che invece in altre realtà portuali tipo Genova, Livorno e Ravenna sono stati raggiunti e in qualche caso superati. C'è da considerare che proprio rispetto a due anni fa sono arrivate in porto 700 navi in meno, 150 in più rispetto al 2020 e ciò non può non avere avuto una ricaduta in termini di traffici complessivi. Una volta tanto le note positive arrivano dal settore commerciale, bene i prodotti petroliferi con un tonnellaggio superiore anche rispetto al 2019, ebbene le cosiddette rinfuse solide, anch'esse come tonnellaggio maggiori rispetto a quelle dei primi nove mesi di due anni fa. A spingere in alto i valori c'è soprattutto il carbone, con oltre 200.000 tonnellate in più rispetto allo scorso anno, ma risultano in crescita anche i prodotti metallurgici e le altre rinfuse solide. In crescita, ma con numeri marginali in termini di tonnellaggio, anche i minerali grezzi e i cementi e i prodotti chimici. Bene anche le merci varie in colli, con crescite significative per quanto riguarda le operazioni condotte dalla CFFT e il RORRO, che arrivano a sfiorare i livelli del 2019. Si osserva la ripresa del traffico croceristico, anche se con valori lontanissimi rispetto a quelli di due anni fa, venendo a mancare 1.700.000 turisti. E si migliora nel settore dei passeggeri diverti verso le isole e la Spagna, con 200.000 unità in più rispetto al 2020, ma con oltre 500.000 in meno rispetto al 2019. Un discorso a parte, ancora una volta, va riservato ai container. Il settore fa clamorosamente registrare una diminuzione rispetto allo scorso anno, visto che vede una movimentazione di 71.622 TEU contro gli 82.141 del 2020 e gli 87.145 del 2019. Insomma, viene esattamente confermato quanto avevamo anticipato nei giorni scorsi a livello di sensazione visiva, ovvero che il mirabolante arrivo delle grandi navi porta container, al di là dei programmi e dell'impatto visivo, ben poco aveva portato sotto quello strettamente commerciale, che è quello che conta al di là delle chiacchiere. C'è da dire che nel semestre considerato incide in minima parte l'attività della reef line, che ha iniziato i suoi collegamenti diretti con la Cina a metà settembre. Gli effetti della nuova linea sul volume complessivo del traffico container si vedranno, si spera, nell'ultimo trimestre dell'anno in corso. Visita nel porto di Civitavecchia dei membri della Commissione Trasporti e Comunicazioni del Parlamento finlandese, presiduta da Suna Kamalejen e dell'ambasciatrice della Finlandia a Roma, Pia Rantala Engberg, a ricevere la delegazione finnica il presidente dell'autorità portuale, Pino Mussolino, che ha voluto rimarcare come la Finlandia sia un paese all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie digitali efficienti e sicure, intelligenti e sostenibili. Dal canto suo la presidente della Commissione parlamentare, Suna Kamalejen, si è detta soddisfatta di aver constatato il grado di collaborazione fortemente propositiva del presidente Mussolino ed elente portuale che rappresenta. Intanto ancora tori pericolosamente vicini alle abitazioni nella zona di Molacce, al confine nord di Via Terme di Traiano. Anche questa mattina i residenti del quartiere periferico si sono trovati di fronte agli ingombranti animali che avevano occupato la sede stradale determinando una situazione di pericolo. La vicenda, al di là degli aspetti grotteschi, necessita comunque di un intervento da parte delle autorità competenti, soprattutto a tutela dell'incolumità delle persone. Ma sentiamo. I residenti della zona Molacce dovranno prima o poi munirsi di una muleta, che per coloro che non lo sapessero è lo strumento, fatto di un bastone accompagnato da un grande panno rosso utilizzato dai toreri che si esibiscono nelle arene spagnole dove vanno ancora in scena le corride. A distanza di due giorni dall'allarme lanciato da alcuni abitanti che si erano trovati un toro nel giardino di casa, il fenomeno si è nuovamente ripetuto questa mattina. Erano da poco trascorse le sette, quando alcuni residenti, che dovevano recarsi al lavoro, si sono trovati la strada ostruita dai simpatici animaletti, intenti tranquillamente a pascolare. Tori e mucche provengono dalle aree vicine al quartiere, che risultano tuttora completamente libere e che dovevano essere oggetto di un piano urbanistico di insediamenti abitativi, poi non attuato. Hanno quindi ampi spazi di movimento e naturalmente tendono poi ad avvicinarsi a luoghi dove pensano di poter trovare di meglio da mangiare. Siccome la zona di Molacce risulta da anni disastrata, dopo una frana che ha provocato uno smottamento importante e che non è più stata sistemata, per gli animali risulta facilissimo poter avvicinarsi alle abitazioni. I vasti campi dove dovrebbero normalmente pascolare sono infatti separati dalle case soltanto da una debole recinzione retta da leggeri assi di legno, che peraltro dovrebbero proteggere i passanti da un'eventuale caduta nella scarpata sottostante. Una situazione obiettivamente incresciosa e anche pericolosa per i residenti, che si trascina da oltre dieci anni, da quando appunto avvenne l'episodio franoso al quale non è mai stato posto rimedio. Finché la situazione era tranquilla, la situazione era mediamente sopportabile, adesso col pericolo dei tori che possono entrare in casa un po' meno. E proseguiamo con la cronaca. La sospensione temporanea della licenza per dieci giorni alla decisione della Questura di Roma per un mini market che in più di un'occasione ha venduto bevande alcoliche dopo le 23 a minorenni. Tutto è partito dai due interventi effettuati dagli agenti del commissariato di Civitavecchia rispettivamente il 31 ottobre e il 4 novembre scorso per rascorrere entrambi i casi due ragazze colte da malore per abuso di sostanze alcoliche. Dopo il primo intervento sono state fatte ulteriori indagini a seguito delle quali è emerso che le stesse, entrambe minori, il 4 novembre scorso avevano acquistato due bottiglie di vodka nel mini market senza che il suo titolare, un cittadino bengalese, chiedesse loro il documento d'identità. Per il titolare già deferito all'autorità giudiziaria per ben tre volte per aver venduto bevande alcoliche dopo le 23 è scattata un'altra denuncia. Tutti questi elementi raccolti e inviati alla divisione amministrativa e sociale della questura di Roma hanno dato l'avvio a una meticolosa istruttoria al termine della quale il questore ha disposto per il locale la sospensione temporanea della licenza per 10 giorni. E dopo due giorni con numeri molto alti rallenta il covid-19 a Civitavecchia. Nel consueto rapport di ASL Roma 4 e Regione Lazio si legge che in città sono stati registrati tre nuovi casi positivi, minore invece il numero dei guariti che nelle ultime 24 ore sono stati due. È utile informare le persone che devono sottoporsi a una mammografia e sono state vaccinate di recente contro il covid-19 di chiedere al loro medico di fiducia quanto tempo devono aspettare per fare la mammografia. Lo sostiene il dottor Giovanni Ghirga che riporta uno studio americano secondo il quale l'interpretazione dell'esame potrebbe presentare dei problemi. La vaccinazione infatti può causare gonfiori nei linfonodi dell'ascella, dallo stesso lato dove è stato effettuato il vaccino, soprattutto dopo il richiamo o dosi successive rispetto alla vaccinazione iniziale. Questo gonfiore, spiega Ghirga, è un segno normale che l'organismo sta costruendo una protezione contro la covid-19. E intanto si apre domani il sipario del Traiano, inaugurare il cartellone del teatro comunale sarà Silvio Orlando in la via davanti a sé di Roma e Gari. L'appuntamento è per sabato alle 21 e domenica alle 17. Sentiamo i particolari nel servizio, vediamo. Sul sipario sul Traiano, ad inaugurare la nuova stagione del teatro comunale, nata dalla collaborazione tra il Comune Civitavecchia e ATCL, sostenuto dal Ministero della Cultura e Regione Lazio, sarà uno dei grandi attori italiani, Silvio Orlando, impegnato in La vita davanti a sé di Romain Gari. Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al centro di un discusso premio Goncourt, La vita davanti a sé di Romain Gari è la storia di Momo, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville, nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca in Lunario prendendosi cura degli incidenti sul lavoro delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un'improbabile storia d'amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l'ironia di Momo, diventando con naturalezza quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro per tutti, dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro, con il genio di Gari che ha anticipato, senza facili ideologie e sbrigative soluzioni, il tema dei temi contemporaneo, la convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi. Raccontare la storia di Momo e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gari dovrebbero essere uno slogan ed una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi. Bisogna voler bene. In scena, musica dal vivo con la direzione musicale di Simone Campa e l'ensemble dell'orchestra Terra Madre. Appuntamento per gli abbonati e per tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo domani alle 21 e domenica alle 17 al Teatro Traiano. Il Comune di Civitavecchia ha aderito alla campagna Illumina Novembre, lanciata da Alcase Italia, all'organizzazione dedicata alla lotta contro il cancro al polmone. Domani la facciata del Teatro Traiano verrà illuminata di bianco per sensibilizzare i cittadini sulle nuove prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato di questa malattia a partire da un'informazione che tutti dovrebbero avere. Lo screening è in grado di salvare migliaia di vite e i nuovi trattamenti personalizzati sono in grado di far convivere il malato con un tumore reso non più aggressivo. E si terrà anche quest'anno a Civitavecchia la giornata mondiale del diabete. La manifestazione dedicata allo screening e alla prevenzione si svolgerà sabato nel parcheggio del supermercato Coop che si trova a Bocelle dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 organizzata dall'Adiciv con il contributo dell'ASL Roma 4 e del Comune. Ma sentiamo le interviste. Vediamo. Questa giornata del 13 ha una valenza estremamente importante perché parliamo innanzitutto di prevenzione. L'intendimento della giornata è di portare sul territorio la conoscenza di questa problematica, spingere la nostra popolazione ad accedere ai nostri servizi anche attraverso un'offerta diretta, quindi la possibilità di fare uno screening grazie diciamo agli operatori. Prenderemo in carico attraverso un'azione di prevenzione la nostra popolazione individuando persone o già con problematiche in atto ma sconosciute oppure ad alto rischio garantendo quindi una presa in carico che nei soggetti a più alto rischio si sostanzierà pure con una serie di controlli compreso anche quello oculistico. Nella nostra azienda la rete diabetologica è particolarmente sviluppata e abbiamo sia diciamo dei punti nei due ospedali, l'ospedale di Civitavecchia e l'ospedale di Bracciano sia dei punti sul territorio perché diciamo l'intercettazione di questa malattia può avvenire attraverso la semplice misurazione della glicemia e quindi anche in un ambulatorio diciamo infermieristico. Motivo per il quale questa è la classica patologia nella quale mettere insieme le risorse dell'ospedale e le risorse del territorio è particolarmente indicato in cui quindi si gioca molto questo tema diciamo dell'integrazione tra ospedale territorio che viene invocato e ripreso in questo periodo molto frequentemente. Quindi sicuramente nel futuro io vedo la possibilità di sviluppare ulteriormente una rete diabetologica che è già forte. Facciamo la giornata mondiale del diabete, la faremo nel piazzale della COP che sarà una giornata di divulgazione di documenti e di materiali. È una giornata essenzialmente però ormai ci teniamo essenzialmente per la prevenzione perché sappiamo bene che ci sono molti malati di diabete che non sanno di avere il diabete per cui il malato diabetico lo sa si cura, speriamo che è sicura e noi cerchiamo di convincerla curarsi meglio, di avere atteggiamenti e comportamenti sana alimentazione, attività fisica eccetera. Viaggio nella memoria, la mostra fotografica itinerante è a cura delle associazioni culturali Civita Film e il Serapeo. Inizia il suo tour all'insegno degli istituti scolastici cittadini partendo dal liceo Guglielmotti. Stiamo parlando della mostra dello spettacolo presentato Civita Vecchia il 5 luglio 1980 con la regia di Dacia Maraini. L'iniziativa curata da Tiziana Giuliani e Daniela Sisti è stata organizzata nel quarantennale dello spettacolo che nel 1980 vide la partecipazione di un gruppo di donne del collettivo femminista locale sotto il patrocinio della loro assessore alla cultura Alfio in Solera. La mostra è già presentata con successo presso l'hotel San Giorgio durante la decima edizione dell'International Film Tour Film Fest, riscuotendo un ottimo successo di pubblico tra l'altro anche con la presenza della stessa Dacia Maraini. Occhio sulla città, arriva al quartiere Sampio, le telecamere della trasmissione si sono soffermate sull'intera area una volta denominata le casermette che versano uno stato di completo abbandono nonostante si trovi intorno a una chiesa molto frequentata. Ma sentiamo. Ancora una nuova segnalazione da parte di alcuni nostri telespettatori. Questa volta ci troviamo al quartiere Sampio, proprio di fronte alla chiesa, in via della Campanella per la precisione, dove ci sono ancora alcune abitazioni che risalgono a molti molti anni fa. Ebbene, ancora sono abitate, a dire il vero, malgrado le condizioni siano di totale degrado, non solo della struttura dove sono alloggiati alcuni cittadini, ma anche dell'intera zona che vive in uno stato di degrado totale. Sembra che qualcuno si sia dimenticato di quest'area, un'area che è in sofferenza, come è possibile vedere dalle nostre immagini. inquadriamo una parte che è leggermente rialzata e dove c'è una zona alberata e dove ci sono delle erbacce, ma in particolare c'è stato segnalato lo stato di abbandono con una vera e propria discarica a cielo aperto. Ecco, sono visibili alcuni resti, anche addirittura fuori di un'abitazione c'è un divano e non si comprende neppure se tutte le abitazioni sono tuttora occupate o meno. ebbene risale, come dicevo già, a molti anni fa, decine e decine di anni fa, questa serie di strutture che era collegata un po' con l'Italcemente e il quartiere si chiamava delle casermette cosiddette che ospitava anche subito dopo la guerra vari cittadini che rientravano dopo essere stati sfollati e che avevano lasciato naturalmente a causa dei disagi e dei bombardamenti. Ecco, noi mostriamo quello che è lo stato, in parte sono solo degli arbusti tagliati che giacciono a terra ma non soltanto. L'insieme rappresenta, ecco, lo ricordiamo ancora una volta, c'è una chiesa che è frequentata dai credenti, dai fedeli ebbene non è certo piacevole vedere, assistere a uno spettacolo di totale abbandono. Forse anche in questo caso un intervento da parte del comune sarebbe importante e anche dei CSP per limitare un po' quelli che sono i danni provocati anche dalla stessa natura che vuole avere comunque il sopravvento e continuare a vivere. Ecco, noi lo segnaliamo perché ci sembra giusto che anche questa zona un po' periferica però debba essere considerata nel giusto valore perché è comunque abitata. Civitavecchia può festeggiare un riconoscimento che premia la sua progettualità e la capacità di metterla in atto. Orti Solidali ha infatti vinto il primo premio del contest Non Sprecare organizzato dalla prestigiosa Università Lewis con la partecipazione di altri enti e istituzioni. In particolare il progetto Orti Solidali ha vinto nella sezione dedicata alle istituzioni conquistando il primato sia nella giuria degli esperti che in quella popolare. Il premio Non Sprecare rappresenta un sigillo a una realtà, quella creata in via terme di Traiano che è già di per sé un gioiello, commenta l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli. È soprattutto una soddisfazione che va condivisa con chi ha preso parte a questo progetto a cominciare dalla comunità di Sant'Egidio alla ASL Roma 4, da Civitavecchia, servizi pubblici agli altri settori della realizzazione. E proseguiamo con lo sport. Palla a nuoto, la stagione dei discorsi fuori vasca è finita. Ad ora in poi la NC potrà pensare solo al nuovo campionato di Serie A2. Si parte subito con un doppio turno casalingo nel primo domani alle 15. Rosso Celesti se la dovranno vedere con il Sori, sceso dal nord per far parte del Girone Sud. Questo match appare subito come uno scontro salvezza e la squadra di Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti dovrà fare di tutto per aggiudicarselo. Ma ascoltiamo l'intervista a Capitan Romiti. Vediamo. Davide Romiti, finalmente parte il campionato per quanto riguarda la NC. Si inizia con questo scontro con Sori. È una partita già importante per voi? Sicuramente tutte le partite per noi sono importanti. Pur per vedere a che punto stiamo sia all'errore preparazione che di gioco. È la prima in casa e quindi come tutte dovremmo cercarlo di vincere, ma soprattutto questa diciamo. Una sfida sicuramente interessante, quella con la squadra Ligone che quest'anno è scesa a giocare a sud. Poi è importante anche il fatto che avete avviato questa iniziativa della testa del tifoso che farei in modo di far arrivare il pubblico e il sostegno per voi. Sì, diciamo che come Capienza lo stadio può avere fino a 200 persone. Quindi è un modo sia per controllare chi viene e chi non viene e sia per cercare di riavvicinare le persone a noi, alla palla a nuoto e per cercare di tornare a una sorta di normalità che in questi ultimi anni non c'è stata. Per chi vuole fare la testa può chiedere in segreteria al costo simbolico di 10 euro. Il giorno prima della partita chi vorrà venire a vedere la partita mi sembra dovrebbe mandare le mail dalla società per dichiarare che viene a vedere la partita per avere una sorta di conteggio delle persone che possono entrare allo stadio. Come è stato questo periodo di preparazione per il campionato? Si è parlato molto di discorsi extra vasca adesso finalmente parla la vasca, parla il pallone quindi si inizia a giocare. Diciamo che noi giocatori alla fine ci interessava poco è stato molto molto importante che siamo riusciti a cominciare subito allo stadio mentre l'anno scorso abbiamo avuto un po' più di difficoltà. Sicuramente è stata una preparazione diversa abbiamo notato tanto, abbiamo usato subito il pallone e magari abbiamo giocato poco sempre per i soliti motivi purtroppo inerenti al Covid e per cercare di avere qualche contagio o cose del genere però sabato è un buon banco di prova è sicuramente interessante vedere quello che possiamo fare. Pugilato, Michael Magnesi vince anche negli Stati Uniti nella notte Leone Wolf ha sconfitto il filippino Eugène Lagos per KU tecnico alla terza ripresa nel match che si è svolto agli studi Paramount di New York. L'inizio vede qualche difficoltà con Magnesi che finisce al tappeto alla prima ripresa ma che è bravo a rialzarsi immediatamente senza dare vantaggi dal punto di vista psicologico all'avversario la reazione del lupo solitario è vehemente una raffica di pugni manda completamente fuori giri l'avversario e l'arbitro è costretto a interrompere la contesa come detto nel corso del terzo round. Magnesi mantiene la sua imbattibilità portandosi a quota 20 vittorie di cui 12 per KO e ora potrà continuare il suo sogno americano quello che lo vede protagonista di una missione davvero intrigante quella di riunire le cinture della categoria Super Piuma. Pallavolo e pallavolo Serie C con la Margutta che questo weekend giocherà di domenica il sabato diventa tutto per la Serie C sfida esterna per la Coma al CV Volley nel femminile con il 6 più 1 di Alessio Pignatelli di scena sul parquet dell'onda volley alle 16 ad Anzio le rossonere non avranno un compito semplice visto che le avversarie sono solo sotto di un punto ma la classifica al momento è molto corta giocherà a Tuscania alle 18 la Tuscana Volley nel maschile rosso-blu se la dovranno vedere con l'Isola Sacra al momento in piena zona play-off Palla a mano sfida casalinga per la Folavioni nel campionato di Serie A2 domani alle 15 le giallo-blu affronteranno le pugliesi del Conversano in uno scontro importante per definire la lotta per il terzo posto entrambe le squadre hanno portato a casa due punti nelle prime due giornate importante per la formazione di coach pacifico sfruttare il turno casalingo e tra l'altro vuole riscattare le due sconfitte dello scorso anno contro le rosso-blu a sentire indisponibile Peris e l'infortunata Candelori Calcio a 5 una gara per segnare l'immediato riscatto dopo il 3-9 contro il Torrino stiamo parlando del match del futsal Civitavecchia che domani riceverà al lottatore il CCP formazione di metà classifica con una vittoria i nerazzurri potrebbero tornare in zona play-off squalificati tra Polini e proprio mister Tangini che in panchina sarà sostituito dal vice Diego Matteo non ci sarà Poggi che sia infortunato a linguine nella rifinitura possibile la convocazione del lungodeggente Tiberi giocherà in casa anche l'Atletico Tirrena in Serie C fischio d'inizio alle 16.30 per la gara contro la Littoriana in quello che sarà un altro scontro salvezza il quintetto di Olimpia Santoro va ancora a caccia della prima vittoria stagionale novità per l'Atletico è l'arrivo in squadra dell'esperto pivò Lucia Droghini un acquisto sicuro per dare smalto a un gruppo molto giovane e che fa fatica quando deve sfruttare le occasioni da golla e ora passiamo a una segnalazione che ci arriva da Via Abramante una nostra telespettatrice ci ha contattato per segnalare la situazione di degrado che si registra nella zona della fontanella che perde acqua e che ha creato uno strato di muschio molto scivoloso nella parte adiacente la situazione va avanti da circa un mese a causa della rottura del rubinetto e come si vede anche dalla foto che ci sono state inviate a poca distanza il secchione che raccoglie le deiezioni canine è pieno di ogni tipologia di rifiuto comprese bottiglie di vetro alcuni cittadini lasciano addirittura le bustine con gli escrementi del loro cucciolo sopra al contenitore ma come di consueto giriamo la segnalazione agli organi di competenza e vi ricordo che stasera dopo il TG andrà in onda la seconda puntata con appuntamento con ospiti Annalisa Contu e Valentina Di Gennaro ed è tutto per questa edizione ma continuate a seguirci nei nostri canali social ovvero Facebook, Instagram e Youtube naturalmente il nostro sito www.trcgiornale.it e non mi resta appunto che augurarvi un buon proseguimento di programmi ovviamente di serata Arrivederci www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it